E' durato davvero poco il tema delle liste pulite, imposto in campagna dalla Lega come contropartita al Via Libera per Stefano Caldoro, stringi stringi come unico risultato ha prodotto l'esclusione di Armando Cesaro, capogruppo uscente di Forza Italia, incensurato, non indagato, Cesaro è stato costretto a farsi da parte per la gioia di Salvini, molto meno per quella di Caldoro perché figlio di Gigino Cesaro che insieme ai suoi tre fratelli è finito al centro dell'ennesima inchiesta per presunti collegamenti con il clan Pucca di Sant'Antimo, nella stessa inchiesta compare peraltro Flora Beneduce che si dichiara a sua volta partelesa che invece dopo aver lasciato Forza Italia sarà candidata con la lista Campania Libera, una lista che sostiene De Luca, la Beneduce è stata anche fulminata dal Governatore e il mio albero della vita ha detto, la irriducibilità però della Lega si è fermata al caso Cesaro e a Forza Italia, mentre è grasso che cola, l'ex sindaco di Ponte Cagnano Ernesto Sica condannato il primo grado a dieci mesi di reclusione, cinque anni fa fu autore insieme a Cosentino del dossier spazzatura su Caldoro per impedirne la candidatura, Michele Schiano di Visconti indagato per voto di scambio con l'aggravante camorristica, sostenitore di De Luca in questi cinque anni dopo essere stato eletto cinque anni fa con Forza Italia, Marco Nonno condannato a otto anni e sei mesi in primo grado per i gravissimi disordini antidiscarica a pianura nel 2014, Pietro Diodato che essendo passata in giudicato una vecchia sentenza, una vecchia condanna per disordini elettorali venne anche rimosso da consigliere regionale, troveranno posto nella lista di Fratelli d'Italia, la stessa che invece non ricandiderà Luciano Passariello che invece è stato prosciolto perché il fatto non sussiste nell'inchiesta Bloody Money sulla gestione dei rifluti accesa questa inchiesta dai riflettori, in quel caso un po' farlocchi del sito Fanpage, anche di questo parleremo a qui regione, partendo proprio dalla Lega facendosi un po' di conti si potrebbe sostenere che il partito di Salvini in Campania ha come principale obiettivo quello del definitivo ridimensionamento di Forza Italia nella quale a sua volta non si fermano le defezioni interne, lo verificheremo con il senatore Pasquale Pepe. Con il segretario regionale del Partito Democratico le ho annunziata faremo il punto sulla due giorni di Agnano e sui non pochi sassolini che De Luca si è tolto dalle scarpe restituendoli al Partito Democratico regionale e soprattutto nazionale. Ci faremo spiegare meglio il modello Polonia evocato per la Campania da Valeria Ciarambino e anche sul modello Olanda evocato da De Luca, verificheremo la loro attendibilità con il Presidente di Svimez, Adriano Giannola, testimonial della puntata, il Professor Paolo Ricci da Federico II di Napoli, stasera a qui regione, a partire dalle 21.15 su Prima TV o anche in diretta Facebook. Vi aspetto.